Allora, eccoci adesso invece con un professore dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero che hanno portato qui appunto i ragazzi per poter così imparare le nozioni pratiche del volo, si è passati dalla teoria a scuola alla pratica sul campo. Professor Renato Dauria. Allora, professor Renato, questo scopo di questo corso mi sembra chiaro perché appunto si può anche trovare un'opportunità di lavoro anche se con le materie che studiate a scuola all'Alberghiero sembrerebbero nulla a che fare con questo tipo di situazione, però alla fine va bene anche così. Sì, quest'anno è il primo progetto che abbiamo iniziato per due corsi che abbiamo nel nostro istituto. Il corso di gara, cioè gestione dell'ambiente e risanamento delle acque, che ovviamente proprio per la tipologia del percorso chiede anche questa particolare capacità e competenza nell'utilizzo del drone. perché è destinato come formazione propria dell'alunno a dover avere a che fare con il territorio, con la sorveglianza delle acque, con la prevenzione per tutti quelli che sono gli eventi che possono poi manifestarsi all'interno del nostro territorio e abbiamo aperto questo progetto quest'anno ovviamente al corso di accoglienza turistica che tra i corsi che abbiamo all'interno del nostro istituto è quello che maggiormente può trovare nell'utilizzo del drone un ulteriore sbocco lavorativo perché pensiamo alla pubblicità per quelli che sono gli itinerari turistici, proviamo a pensare a guide online per promuovere il nostro territorio. quindi da quest'anno pensiamo di doverla proprio quasi istituzionalizzare se fosse possibile con questa collaborazione da inserire quasi nel nostro percorso di studi perché sicuramente al passo con i tempi è un'opportunità che i nostri alunni non devono perdere. Alla fine abbiamo trovato il punto d'intesa di questa scuola che abbiamo detto all'inizio potrebbe sembrare non centrare nulla con questo argomento ma invece alla fine perché se le cose tecnologiche come internet e come queste anche i droni vengono usate da persone che hanno qualcosa di positivo da poter proporre diventano situazioni certamente importanti. Tutto diventa utile se abbiamo la giusta chiave di lettura e utilizzo. Poi ci sono i soliti tirati informatici che guastano tutto però l'intento di questo corso è sicuramente così. E noi professore siamo ben vietti di poter apprendere questa cosa perché questa è una scuola a cui noi a Termoli ci teniamo tanto. Grazie. Tanto orgoglio ci dà questa scuola soprattutto per i giovani che troveranno delle opportunità lavorative importanti. Questo è lo scopo principale. Cerchiamo soprattutto di qualificare i nostri allunni ad essere veramente portatori non solo di cultura, non solo di particolare attenzione all'enogastronomia ma quanto veramente persone che hanno passione per quello che devono fare. Noi cerchiamo di dare questo, di rasmettere soprattutto questo. E rivolgiamoci anche a quelle persone che per esempio usano i troni per altri scopi che a noi sicuramente non piacciono. Noi invece preferiamo guardare un utilizzo che sia per la vita e non per la morte. Grazie professore. Grazie a lei.